Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale, io sono Francea e oggi siamo tornati su Life is Strange Stiamo andando avanti con la serie e mi sta piacendo tantissimo Anzi sono molto curiosa di sapere che cosa succederà d'ora in poi visto che Max si è allenata col suo potere Bene, andiamo avanti col gioco E rieccoci dove c'eravamo fermati, abbiamo perso del sangue dopo aver usato i poteri E quindi io credo che il potere di Max in realtà non sia molto positivo per lei Anche se riesce a salvare la gente in tante circostanze E ora sto ispezionando un po' perché magari c'è qualche fotografia che possiamo fare Ma credo proprio che andremo dove diceva Chloe Parliamoci Dov'è il nascondiglio segreto? Sì Grazie No, io voglio rispondere Rispondiamo La stiamo aiutando Beh Chloe non puoi essere gelosa per questo Insomma Ma non preferisci Kate? Fatti Oh santo cielo Non sei più la sua migliore amica Sei una stronza arrogante Usciamo Vediamo dove andiamo Va E questo chi è? Sarà mica quello che ci ha mandato il messaggio minatorio? Dove siamo? Qui? In una discarica E il posto segreto La discarica Wow Che test? Divertirci bevendo la birra Non proprio sai Ma c'ha la pistola Ma non possiamo abusare del potere Chloe Ma santo cielo Già Cosa devo fare? Trovare le bottiglie? Già Ecco una bottiglia Quindi Ok Ok Termine Eh ma si spacca Cosa dobbiamo fare Per non farla spaccare? Prendiamo la bottiglia Una Prima bottiglia trovata Andiamo a cercare La seconda Cosa Oddio 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 ecco un messaggio da Warren o qualcos'altro vabbè scimmiamoci troppo tardi ah è vero oggi dovevamo uscire con Warren no poverino ecco un'altra bottiglia è trovata la terza bottiglia perfettissimo perché abbiamo visto una cerva dov'è? ma dov'è? eccola facciamo subito la foto ma è simitrasparente Max non risulterà nella foto ne sono sicura o risulterà? bah lo scopriremo solo vivendo lo scopriremo solo vivendo un vestito è una maglietta non un vestito come ragione sediti sul tronco già ci siamo seduti per niente andiamo a cercare la quarta bottiglia per cortesia sposta sposta ecco infatti per poter prendere la bottiglia in alto prendiamola perfetto abbiamo trovato la quarta bottiglia ottimo grey andiamo a cercare l'ultima immagino starà dentro quello stanzino un messaggio da Kate allora diciamo che Kate a me sta simpatica perché comunque mi dispiace quando la gente è vittima di bullismo e quindi mi preme molto aiutarli perché ci sono passata anche io stessa quando andavo a scuola infatti io sono contro il bullismo assolutamente ragazzi mi raccomando se avete una certità tendo giovane state guardando i miei video ricordatevi che il bullismo non va mai bene credetemi non vi servirà niente soprattutto per il futuro anzi anzi e tu invece che subisci il bullismo cerca di andare avanti perché il mondo va avanti lo stesso anche se tu sei vittima di bullismo te lo posso dire perché io ci sono passata e io sono qua quindi cresci lo stesso anzi forse ti ti rafforza lo so che magari puoi passare un brutto momento però ti aiuterà tanto per il futuro bene prendiamo la quinta bottiglia e le abbiamo trovate tutte ora penso dobbiamo andare a parlare di nuovo con Chloe questo è un posto dove si vedevano Chloe e la sua amica ok andiamo a riparlarci vediamo che cosa ci dice dopo che abbiamo trovato tutte le bottiglie ah eccola non la vedeva era mimetizzata grazie prego aspetta un altro ... ... ... ... Show me the way Max Show me the way Max Show me the way Max I'm a bit to your left I'm on it No, I'm not sure Hey, it's not my fault You have Show me the way Max Show me the way Max Ok Show me the way Max Ok Ok Oh Yes, did you see that shit Max? Duh That was so fucking cool Now for the second bottle Now Max Where do I aim? You're on target Hold the trigger Ok Dove mirare più in alto Ok Ok Right between my eyes Watch out Nathan Now that is fun Let's pump up the volume and find me another target I want to get creative here M***** Quanta antipatica, ma perchè? Eh, sto scegliendo Stai calmo Fine, since you won't play Ok, I'm gonna shoot this barrel Yawn Listen Windows Nope jump No Due Yes My Give me something Let's see you take a crack at that rusty barrel Sorry, Mr Beryl Your time has come Listen to those fat bullet beeps però ha sprecato un progetto, no? faremo sparare a... quindi le facciamo sparare lo schermo o la ruota lì? spariamo lo schermo esatto vecchia scuola in realtà dice, però vabbè che palle però sta cosa eh il cerchione dai maronna che palle ha il paraurti mettere una real dente nella fronte del bumper buongiorno, buongiorno buongiorno oh jesus! mi ha sprecato! 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 oh santa madonna, ma è pericoloso sento ciao spariamo la gomma bene abbiamo rotto tutto non posso credere che questo è per vero il mio migliore amico è superherò ora è il tuo turno di rinnovare una battaglia non lo so Oddio, ho sapevo Non devi ascoltarla Santo cielo Oh mio dio Oh mio Non voglio sparare in realtà Queste sono le amicizie sbagliate Chi è questa qua? Ma è buono Ma è buono Ma è buono Ho proposto di The Walking Dead Ma come cazzo è finita questa serie Vabbè Nascondila Oh mio dio Ma perché siete sempre nella merda? No, non sparare Sì, vabbè Non è un buon motivo per sparare una persona Qu'è? 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 Qu'è Qu'è? Qu'è Qu'è? Qu'è? Si te amica lo stesso Sì, adesso hai me per proteggerti Sì, sono felice che tu eri qui Sì, me anche Sì, credo Chloé, perché tu stai sbagliando gli scambi, gli scambi come Frank Gente buona Vabbè, facciamoci schiacciare dal treno Sì, non sono spaventata Ho capito, ma Infatti Magari è stata Chloe stessa a far sparire i braccio Sì, sì 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 Io direi che possiamo concludere qui il video Vi chiederei di mettere un bel like se il video vi è piaciuto ovviamente Di condividere Di lasciare un commento sulle vostre impressioni Per come sta andando la serie Se vi sta piacendo Insomma, per favore datemi dei segni di vita E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao